Guora? No. Oh occhio occhio. C'è uno dei bravi di cuore. Prendete la borraccia. Oh occhio occhio. Eh, qua. Oh occhio occhio. grazie è una passeggiata tranquilla non fate ciao ragazzi grazie grande ma vai no che roba c'era assistito fa andare ciao ragazzi ciao ragazzi ciao no 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 grande grande no 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 il tour è tuo no 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 era il mio è arrivato anche dal primo no 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 grazie ragazzi io primo tu lo sa già tu lo sai già, tu lo sai già, prima di iniziare